Musica Ok Claudia, oggi sei un bambino di 5-6 anni, quindi sei più grande Quindi sei più responsabile e quindi cominciamo un po' di competizione Quindi circuito saltando, vedi che le tue strisce sono sempre più larghe Quindi devi saltare a piedi uniti senza calpestare la striscia Ogni striscia calpestata è una penalità Vai Claudia, salta nel bravo tra le tue strisce, ogni salto è sempre più lungo Ok, torniamo indietro, mezzo giro Stabilizza bene con l'addome, appoggia bene i piedi Brava con le braccia Nel saltare devi essere forte sulle gambe Appoggia tutto il piede Ok, rimani concentrata sul lavoro che stai facendo Bravissima Di corsa, vai verso i cerchi Corsa abbalsata Mi raccomando, anche qua devi cercare di non andare fuori dai cerchi Se no penalità Quindi comincia con il tuo piede destro nel primo cerchio Vai col sinistro Controlla bene l'appoggio sul piede Bravissima Ok Devi tornare indietro Claudia La Ok Benissimo Ok Claudia, mi rifai la corsa abbalsata Provando però a tenere il braccio opposto alla gamba Quindi, brava Così Come l'altra volta nella quadrupedia Buono Controllo Torno indietro Non aver paura Rallenta Se vedi che non sei sicura Perfetta Grazie a tutti